E' quasi come quella delle ragazze? Si, è una grande buonanotte perché finalmente i mesi di lavoro si vede completizzato il tutto, la pariutifiazion calificata non tanti altrimenti è via e con una buonissima giovanta di sole quindi speriamo di un bel risultato i tedeschi hanno detto che il corso è una gara in particolare la dimostrazione che è una gara europea non è una gara solo per l'Italia secondo me non è una gara solo per l'Italia una gara europea, una gara che poche siano ancora per gli stranieri e che secondo me ha tutte le caratteristiche che viene diventata fantastica un'idea per il finale di Osti donna sola e climando volata ristretta, secondo te come funziona? Il percorso è selettivo, è una delle più dure che fanno le ragazze nel campo della loro stagione quindi emerge sicuramente chi lo ha morto in salita perché la salita degli spagoli è una persona grazie grazie grazie